A Comune di Campobasso tiene banco la polemica innescata dalle opposizioni sulle perimetrazioni Lucarino, una vicenda che si trascina da anni e che interessa centinaia di contribuenti di Campobasso. A scatenare le critiche, la decisione dell'amministrazione comunale di aggiornare la perimetrazione che riguarda 12 zone periferiche. Sì, è stata approvata qualche giorno fa una delibera di Consiglio Comunale che non ci convince affatto, che ha visto la nostra contrarietà nelle sedi preposte. L'abbiamo contrastata sia per la forma sia per la sostanza. Per la forma perché è un atto che andava fatto con variante, perché è una variante di piano vera e propria, più che un aggiornamento, quindi contestiamo l'impianto dell'atto deliberativo e nella sostanza perché ha inserito una serie di parametri come il lotto virtuale che non ci vede affatto convinti. Si crea un mercato tra privati anche poco chiaro che non ha mai portato a nulla di buono. Questo avrà la conseguenza di avere una serie di ricorsi da parte dei cittadini per cui scontenta tutte le categorie. Sono state fatte delle perimetrazioni che hanno cambiato, se vogliamo, la destinazione di un territorio. Alcune zone agricole sono diventate residenziali e viceversa. Non c'è stato un ricalcolo di parametri edificatori all'interno delle semplici aree, ma c'è stata una vera e propria ridisegnata l'area, questo creando serie difficoltà progettuali in un certo senso. Anche i cittadini che hanno sanato alcune posizioni oggi si vedono fuori da determinati discorsi. Dall'amministrazione comunale il sindaco Battista ha parlato di necessità di introdurre la cultura delle regole. Si continua a far rumore parlando della realizzazione di palazzine di sei piani in zona agricola, quando ciò non corrisponde al vero, ha dichiarato. Si parla di commissariamenti che nulla hanno a che vedere con la delibera del febbraio 2016, ma che riguardano inadempienze tecniche della struttura già peraltro individuate. La verità, ha concluso il sindaco, è che questa amministrazione si sta muovendo, cercando di realizzare ciò che richiede una grande fatica, non soltanto il recupero urbanistico ed edilizio, ma una vera e propria ricucitura culturale di regole condivise e di promozione del bene comune. L'assessore Chierchi ha avuto due commissariamenti sull'articolo 14, ne tragga le conseguenze. Se anche nel merito avremo dei risultati che controvertono ciò che ha deciso l'amministrazione, le deve prendere atto e prima che presentiamo noi una mozione di sfiducia, consegnasse lei, rimettesse nelle mani del sindaco il suo incarico.